Ben ritrovati ragazzi, mancano pochissimi giorni al rilascio della web app perché avremo la possibilità di accedere da mercoledì 18 settembre alle ore circa 19. Dovrebbe essere contestuale il rilascio del Team of the Week numero 1, poi potremo accedere alla Ultimate Edition di FC25 a partire dal 20 di settembre, al cavallo della mezzanotte tra la 19 e il 20. Bene, oggi vi spiegherò come comportarci allo start della web app, quindi al rilascio della web app, cosa fare, cosa non fare, soprattutto come gestire le prime carte che otteniamo. Non dimenticarti che puoi sfruttare la promo estiva di fcmaglia.com, ti metti d'accordo con i tuoi amici, fai un ordine e usando il coupon Lucio, oltre 59€ di spesa hai una divisa omaggio da mettere nel carrello, 10% di sconto e spedizione gratuita. Prima cosa, come funziona l'accesso anticipato alla web app? Ne hanno diritto tutti coloro che hanno creato un club in FC24 Ultimate Team entro l'inizio di agosto. Ma attenzione, se cambiate account, se cambiate console, non passando da Play 4 a Play 5 o da Xbox One a Serie S e X, bensì passando da Play a Xbox, da PC a Play e viceversa, allora non avete diritto all'accesso anticipato, anche se magari giocate da FIFA 98. Quindi, una volta che avete accesso, potrete ottenere il vostro club per FC25. La prima cosa sarà la creazione del club, quindi vi chiederà nome, eccetera, potete scegliere uno stemma, una divisa di casa, una divisa di trasferta, potete scegliere una nazione iniziale. Consiglio generalmente di scegliere una nazione principale, tra cui magari Francia, Brasile e Argentina, se proprio vogliamo anche Spagna e Inghilterra. Semplicemente ci darà alcuni oggetti, alcune carte non scambiabili da mettere nel club per lo starter team e poi da buttare magari in qualche SBC perché sono carte non scambiabili. Una volta che abbiamo fatto ciò, in teoria, stando ad alcune informazioni, saranno di ritorno nuovamente i pack benvenuto. Cosa sono i pack benvenuto? Sono dei pacchetti con oggetti scambiabili che ci verranno dati sulla base della nostra storicità in Ultimate Team. Tendenzialmente, se non ricordo male, i FIFA 22 e i FIFA 23 erano, mi pare, tre o quattro pacchetti con oggetti vari scambiabili. Quindi è interessante per chi vuole iniziare fin da subito a cercare di fare un po' di compraventa e a cercare di farmare crediti. A tal proposito, ti ricordo che, se sei interessato, noi abbiamo un nostro servizio in Discord Premium, dove a partire da circa 2-3 euro al mese, puoi accedere al nostro server esclusivo per abbonati, dove io giornalmente metto consigli di compravendita. Anzi, già trovi guide disponibili per lo start di FC25 e per la web app. Ma queste sono cose in più. Gestione delle carte. Bene, supponiamo che abbiate ricevuto pack benvenuto. Come gestire le carte? Allora, carte tifo, oggetti stadio, stemmi, divise, qualsiasi cosa legata al club, allo stadio, può essere scartata. Perché, prima cosa, il prezzo di scarto è intorno ai 240-250 crediti, quindi sono ottimi allo start. Ovviamente, prima di scartare e vendere qualche stemma e divisa, controllate attraverso il pulsante confronto a prezzo per verificare che non siano oggetti rari ricercati, perché magari ci sono alcune divise particolari, alcuni loghi particolari che sono particolarmente richiesti. Quindi, gestione carte, giocatore, oro comuni, oro rari, che non hanno interesse in termini di ibridabilità per le SBC avanzate in uscita, che non hanno utilità per le SCR giornaliere, incontri principali, eccetera, le scartiamo. Sono 200-250 crediti oro comuni, 5-600 crediti oro rari. Le carte, invece, che hanno un po' più interesse, un po' maggior ibridabilità, allora possiamo, eventualmente, controllare il prezzo e rivenderle, mettendole al prezzo compraora minimo disponibile in quel momento. Chiaramente non deve essere quello di scarto, altrimenti scartiamo perché è solo una carità di tempo. L'obiettivo vostro deve essere acquisire, prima possibile, i più crediti possibili, perché l'inizio vi permette veramente di fare tanti crediti, ma tanti ne servono. Se ne avete pochi, riuscite a fare pochi crediti, dovrete farmare e mettervi giù un po' di tempo. Ovviamente non ci saranno più i contratti, quindi qualsiasi altra tipologia di carta, che non sia carte fodder, 84-85 potete anche rivenderli, 86 più potrete tenerli in vista del rilascio della Standard Edition, scorso anno venne rilasciato The Bruin Flashback al rilascio della Standard, e i fodder un po' più alti sono saliti di prezzo. 84-85 credo che potranno salire qualcosina non prima o seconda settimana di ottobre, quindi secondo me si può monetizzare bene. Il resto, carte, gameplay grosse, sopra 50-100 mila crediti, le possiamo tenere fino almeno il 24-25 di settembre, perché molto probabilmente saliranno di prezzo. Carte, gameplay economiche consiglio di liquidarle poco prima del rilascio della Ultimate Edition. Perché sono quelle carte che subiscono grosse flessioni di prezzo nel momento in cui ci sono grossi spacchettamenti. Per esempio, una carta come, non guardate Renato Sanchez quest'anno, guardate quello dell'anno scorso, oppure il Baldè della situazione, lo Yamal della situazione di quest'anno, Endry, saranno carte che magari allo start della web app possono costare anche 4-5-8 mila crediti, poi rilascio della Ultimate Edition, crollano a 2-3k per via dei spacchettamenti, perché hanno un overall basso, al rilascio della standard arrivano a 1000 crediti. Questa è un'ipotesi, ma è un esempio abbastanza, diciamo, con delle fondamenta molto buone. Dopodiché si comincia a fare la propria squadra, si comincia a fare le piccole prima SBC, quindi prima le SBC base, poi potete cominciare senza utilizzare crediti per acquistare le carte, anche le SBC avanzate. Ricordatevi che mercoledì rilascio web app, giovedì rilascio incontri principali, quindi potrete sfruttare le soluzioni su Foodbin per guadagnare crediti attraverso l'utilizzo delle soluzioni nelle SBC avanzate e negli incontri principali. Poi magari al rilascio della web app stessa lo farò e farò un video guida per permettervi di fare crediti. Fidatevi che ci sono carte che vanno anche da un acquisto di 8-900 crediti a una rivendita di 3-4-5 mila crediti, a seconda delle carte che vanno maggiormente spinte nelle soluzioni più economiche su Foodbin. Detto ciò ragazzi, questo è più o meno indicativamente tutto quello che riguarda lo start della web app e di FC25. Se volete approfondire qualcosa lasciate un commento e vedremo se è possibile fare un video. Vi ricordo tutti i link in descrizione, FC Maglia, il nostro server Discord, abbonamenti e quant'altro. Se avete Amazon Prime l'abbonamento è gratuito attraverso il nostro canale Viola. Ci vediamo alla prossima ragazzi e grazie per la visione. Ciao!